e greetings buonasera e bentornati nel canale di chromatic scale come sempre io sono Icarus e qui al mio fianco non parlo più stasera rimmancavo il silenzio già in pasto adesso siamo tornati su For Honor con delle novità spettacolari farmato come mi ha sceso c'è stato un giorno di malattia pieno di farming mettiamola così sono stato malissimo però sono riuscito a farmare un sacco di cose spettacolari come ad esempio lo spadone dello fiucco della guardiana tatarata e tante altre armi quelle ovviamente del nuovo evento che andremo a non è questa che andremo ad analizzare piano piano durante la serata tipo l'alabarda del giustiziere ma 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 cerchiamo subito un duello mentre chiacchieriamo ma 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 oh 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 L'applicazione ha preso For Honor come gioco? Ho cliccato aggiorno sette o tre volte prima che arrivassi tu. Vedo che c'è un Irealang City online, proviamo ad invitarlo. Vediamo che ci dice. Nel frattempo vi aggiorno. Allora, finalmente mi sono deciso a portare la conquistatrice a un'autorità 1. Quindi siamo a un'autorità totale 27. Quindi abbiamo certo un po' di maximum agginess con queste nuove cose. Guarda, anche con l'elmo è diverso. Sì, ho deciso di mettere questa cosa nuova, vediamo un po' come va. Non mi è male comunque. In realtà ce n'era un altro di elmo che volevo io, ma non l'ho trovato ancora. E non posso cercare di sbustarlo, che sarebbe questo. Ancora più egli? Sì. Questo non mi piace, non mi piace. Vedete l'elmo dell'Overlord, però scusa. Questo è l'elmo dell'Overlord. No, guarda, guarda la forma di questo. Ti ricordi com'è l'elmo di Overlord? Sì, giusto. È l'elmo del feroce Balaur. I serpenti! I serpenti! Per me? Noi siamo impattati. Un po' tattato, fantastico. Un po' tanto. Era veramente bellissimo. Mentre aspettiamo che Iriar si faccia vivo, ci faccia sapere, gettiamoci in un duello. Quindi, tornando all'aggiornamento, ci manca per completismo, ci serve l'elsa della spada della pacificatrice, il Gladio del Centurione e tutto il set, ovviamente, della gladiatrice. Quindi stasera solo gladiatrice, in pratica. Highlander e Valkyria. Ma come? Non abbiamo niente del Dark Knight Lass? No, non l'ho giocato per niente. Da Widen Blaster, Robidinier. Una delle nostre tante mascotte. Beh, c'avevo da completare i cavalieri, ancora non ci sono neanche riuscito. Con un po' di pazienza si fa tutto. Ammesso che non ci troviamo contro gente del calibro Notorietà 500. Eh, ovviamente sì. Ah, Drachio, by the way. Cominciamo subito. Questo è Try Harder Detector che dice. Che questo è un samurai... No, scusami. È un vichingo, con il simbolo dei samurai, che gioca a loro oci. Il che significa che è un samurai, che però è passato ai vichinghi, perché i vichinghi vingono sempre. Ah, ok. Io inconsciamente ho scelto subito il nostro piratone scorsese. Vai, lui, vai. Aspetta, spaviamo un po' di... Oh, questa è Notorietà 9 su 10 con lo rocci. Molto bene, no? I caffi, i volanti. Sì, sì, sì. Colpi anime dappertutto. Vedremo se riusciremo ad acchiapparlo. A tempo, cerchiamo di diventare sempre più meme da soli. Un altro saluto. Siamo già senza stamina. Abbiamo menato due colpi e siamo senza stamina. Eh, ma ha trappato un perry. Un perry come l'è perry? Come l'è perry? Garantirei un colpo gratuito, non prosciugare la stamina dell'avversario. Ma l'abbiamo menato, tu guardo, tu guardo! Ah, ah! Guarda quanto siamo forti! Vai a vedere la muscolatura! Guarda quanto siamo forti! Abbiamo chiuso il gatto qui con noi, è davanti alla porta che si guarda perplesso. Isperate! Che ci faccio io qui? Che sono le tre? Che sono le tre? Ah! Voglievi fare un... Questo. Schiaffi, schiaffi! Qualcuno ha sbagliato tempistico. Ops! Do it, do it, do it! Un po' non è un po' grosso! Non mi schievi! Sì! Sì! ...deggiatria di un personaggio che vuole sul sole... E' per me di... Calcio! Oh, no! Pucco, signor... ...ignorato! Sì, sì! vincolo essere troppo grazie a casa rinviato mio amico mio gg drachio by the way non si è dimostrato un degno avversario e non abbiamo sbustato niente sta cosa mi lascia un sacco perplesso sì sì fino al 3 ottobre abbiamo anche raggiunto la maximum thickness con con la modalità con le tocchieri una volta un po di riscaldamento e poi ci buttiamo sulla modalità d'oro tra l'altro qualcuno ci può arrivare solo ai real l'arruzzo è esploso ai real ci ha tradito sta giocando a fortnite il nostro amico super edgy non c'è vero annaggia non l'ho fatto in tempo magic yordanov questo è un vichingo duro e puro ci vuole la ma c'è mumegines anche dal nostro pirata il pirata è incatramato è incatramato perché non ho giocato il blacklander sennò sarebbe stata la fine quella è la versione dell'uscita di death stranding ho anche tolta di mezzo il blacklander mi chiamo con me MISERU 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 hai alla spalla MISERU MISERU adesso prende la spalla a te TONK devo rimpazzare primo round oh questo è svapava un saluti no come cazzo guarda ti riparare ogni tanto eh ci ho provato e anche adesso in realtà va bene va bene va bene questo gioca passivo mi manda in crisi va bene va bene niente male gioca tattico come uno si giocava una volta ah non ha fatto MISERU neanche la secondo round non ce ne è stato bisogno dai va bene non riesco a farmi colpire da quell'attacco eh dai che sbaglio sempre ma perchè uso l'attacco alto che è più lento mannaggia me ahhh va bene va bene va bene quando uno è stupido c'è poco da fare chi è? ah ok mi arrivano le email dappertutto neanche fossi il presidente ok 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 vabbè sappiamo cosa cosa dobbiamo fare molto bene minima di brainstorming saluto che e che caspita doer to die doer spin laner spin laner spin laner spin laner spin laner ah oh è finito o non sto rando? si rialza senza testa MISERU mamma mia come svapa sto salutando e stavo per dire io lo saluterei perchè lui non lo aspetterà non ce l'avevo capito oh eh ma allora so stupido eh eh vabbè me la so meritata ma questo effetto va bene è veramente brutto comunque questo effetto eh e abbiamo sbloccato solo un paio di bracciali tutto ciò è male molto male e andranno a far parte del nostro prossimo bonus esperienza che ci farà perdere la partita ah giusto dire no non c'è no non c'è oddio come si chiama Dilan 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 quello di The Walking Dead Derry Dixon Derry Dixon Dilan andamo bene Dereel Dixon Dereel Dixon perché ho scritto due volte ah non abbiamo messo l'effetto su questo Spin Lander e quindi tipo quello nuovo o non ce l'ha no non c'ho niente c'ho solo quello di Vortiger no 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 noi abbiamo sbloccato qualcosa per la Nubushi Nubushi ah Ben 2 per lo Rochi c'ho tipo tutto vogliono che tu giochi in lo Rochi cioè era di Ulda era di Ulda era di Ulda qui no era di Ulda era di Ulda anche qui niente meno c'ho eh vabbè l'aspetto addirittura ho delle vento no non ce l'ho il coso questo non l'ho sbloccato sì ma non serve a niente cioè nel senso è un colore dei simboli e dei pattern eh sì no vabbè ma è quelli di sbloccare tipo la testa da pesce barra drago che è un po' orribile non capisco perché le faccio ma credo era un effetto vediamo un po' se lo troviamo vediamo un po' se lo troviamo drago di Ghat no 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 c'è solo il nome è Iscaredd o Iscaredd anche lui un Ai qualcosa come Iscaredd si e gioca a Lito Kiri ahiaiai è una battaglia d'aver armor eh Dator Dator ah lui non ha due R2 Dator rotola via dai nemici con la mentre non punti nulla NINGERUNDAYO la tattica segreta della fuga è sempre lui ha la tattica segreta si primo round oh un po' colorata oh saluta ah boing boing ahia dai per armo e che caspita allora DOR DATOR SPIN LANDER! SPIN LANDER! Secondo round! SON DI ZAMPATE PERO! OH SHIT! E' MELLA! LA VITA! I CALCI! Eeeh, porca sta puttana! Oh! Quando carica gli attacchi, porca miseria, c'ha una tempistica orribile! E' un po' di qua su! Devi essere abituato! Giusto! ECCO LA CARE! No! Nope! Oh, anche due minuti dopo! Oh! No! Escio! Eeeh! Qualcuno ha finito la stamina! Eeeh! 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 Ma che cazzo fa? Eeeh! 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 M'naggia però lui è un vantaggio uguale! E perché siamo comunque... Ah no! Eeeh! Eeeeh! Eeeh! 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 Eeeeeh! Eeeh! 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 wow il round finale adesso un saluti cos'è? cosa sto guardando? la battaglia di morto oh my god è stata la battaglia di alberardo ignoranza e iperato non sento nulla non sento nulla tutti i coperti di sangue non sento nulla abbiamo trovato una guardia robusta centurione, effetto, amore, ira di quella ok, va bene vediamo un po' se troviamo qualcuno per l'assalto Ragnarok oh mio dio guarda dove fu il copagente di alta qualità ci manca la guardia questo è quello dell'evento? lo riconosco c'è il simbolino vicino al nome col simbolino è tipo un pallino con due ali è quello devi riconoscere che è dell'evento quello si quando hanno quel simbolino un albero di natale quando hanno quel simbolino vuol dire che è dell'evento che brutta si è secondo me la scelta di colori che non è troppo azzeccata questa roba perchè veramente sono quasi di natalizio cominciamo a fare un po' di pulizia cominciamo a fare un po' di pulizia cominciamo a fare un po' di pulizia questa mi fa schifo questa vabbè la guardia d'arma glass ne devo tenerla per principio questa abbiamo adesso questa non sta male dai la magnadr il gundadr il sognadr effettivamente è sempre una bella mente guarda meglio di niente mi fa piacere che che mi fa piacere gli eventi almeno quelli erano più fighi quelli dell'evento di Sacro o quelli o quelli di Vortiger poi vabbè siamo super edgy il nostro non ci piacciono le cose troppo colorate no guarda quelli di Vortiger con quel pattern nero-argento mi piacevano un sacco quelli di Sakura hanno aggiunto quel tocco di rosso meraviglioso e poi adesso è uscito tutto sto verde celestino guarda piuttosto le asce del berserker forse si quelle questa cosa il motivo doppio ce l'hanno anche le spade del che non abbiamo tra l'altro ah però però in compenso abbiamo questo che questa è blu così lo scuso sarebbe stato più bello se non avessi avuto quella roba intorno a punti a punti si effettivamente tu la guardi senza senza quella cornice era figo è figo anche così eh però così è solita roba un po' più esagerata c'è il giustiziare che c'è la celestina per non si sa quale motivo questa è azzurrognola ci sta bene però questo è chiaramente ultrafantasy come combinazione tra l'altro ho rimesso ho rimesso l'elmo base alla conquistatrice perché mi ero stufato di vedere il cappellino dei elmi ah giusto dobbiamo aumentare eh sono notorietà 1 in realtà basterebbe giocarle e bloccarne un po' Siamo con... Deadly Batman Deadly Batman 4 Asking Winner 8 7 3 6 e Baystrong 9 1 1 Paco Veri Conta dei Morti Bid Man Tira Poie Tira Poie e 2 Nuova Energia e Tempesta di Lance ma lo dovrei usare ah no giusto qui c'è la cosa di trovo per ammazzolare la gente ben 2 bot nella loro squadra questa cosa mi dispiace poteva bilanciarle e darne uno a noi perché i bot sono forti mica perché no perché dai cioè ci può vedere sta cosa no effettivamente di sì cioè bilancia no metto uno per squadra fine magari si aggiunge vabbè siamo contro un Kensei e uno Shaolin quindi è bene che abbiano due volte ahhh non ti ho fatto vedere il nuovo elmo del razziatore ho sbloccato un elmo della razziatrice notorietà 1 edgy da morire quello col teschio? esatto oh ah no no non mi prendi io sto tentando la fuga disperatamente si adesso io li apro miau 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 liberatevi di che ronda io 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 ahhh molto abbiamo Raider Raider l'obro e il coso nero Blackbriar si con lo scudo con lo scudo con l'aquilotta sul centro che è quello che ci manca per quel set Miracle Blade ho sbloccato una spada che è ancora più Miracle Blade dopo te la faccio vedere le partite che non parlano mai eh vabbè deve caricare la mappa ci deve caricare lo Jormungandr che sputa il 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 coso di Thor siamo pronti per un altro giro di Chromatic Thunder God siamo in difesa? caspita siamo in difesa non vinceremo mai non possiamo vincere togliti di me maledetto è finita e non voglio e non voglio e non voglio ok ok ma morti ma morti fuori 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 non c'era uno di loro qui mi sto a scendere fuori 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 running in the nineties maledetto bot vieni giuuu dove vai? fulaccia e ovviamente arriva il monkey king deadly batman è stato sostituito da un bot già ne abbiamo perso uno perchè la sposa non si dà? no no e quel bitch ping che altro è arrivato il martello al martello no al martello mette running in the nineties you're going to take the hammer power yeah power usare anche l'altro attacco po 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 power quii che i lanci via tui quii vedi oh metà ahahah ahahah guarda p*** con le ali l'effetto poteva non faccio più le emot puoi fare più di ahm devi solo uccidere puoi fare gli età eheh 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 massimo assi eheh 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 ma ooooh kaboom maledetto monkey king kaboom po 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 power ejähr come her come per uva ha haa non so se l'ho ucciso evoli BOOM! HAHAHAHA WAAAGABOOM WINGCIAZZALO HAHA Abbiamo dovuto di recuperare i mini sempre gente morta stiamo shottando tutti non lo resta vero non lo resta non lo resta non lo resta non lo resta con il martello di Tobi non lo resta stanno per proteggere la riete corri aia sciottano anche noi mo ci fregano il martello no no col martello di torno spero che gli sia scaduto il tempo no è scaduto il tempo ah mi vendicherò vendicherò di colui che mi ha privato del martello ma quanti se n'è di questi monkey key ah beh no si se l'hai ripreso tia matteletti è tutto il il l'inizio è arrivato fino a qua forza noi siamo andati ad ammazzare la gente invece che a non non capisco se gli faccio danni oppure no però la riete è fermo quindi adesso vado a spavolare il calderone che è al piano di sopra ovviamente quindi dovrò farmi tutto la strada a piedi per arrivare fino a ok 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 eh purtroppo è più veloce di me e io ci avevo poca vita Boom, prima botta alle porte No, qualcuno mi sta rianimando Chi è quel puno, il gentiluomo che mi riva? È stata una botta a qualcuno Hanno sparato questo coso? Ragazzi, bisogna fermare il calderao Meravigliao, su, su, su Chi è questo? Ma è che sono già morto? Ho un posto per recuperare la vita Magari riesco anche a Paracularmi un po' di vita Una botta al calderone Beh, la vita, oh, eccolo Ah, mi sento rinancio Per ripulire lì la zona del calderone Sennò c'è del calderone, del... Gli archivi, loro Da una corsa a sto posto Power E' mo' arrivo Basta Facciano le porte Eh, sto andando fecchio vuto Stai con il martello? Oh Qu MB e cavati dalle scuole ho ammazzati due tira 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 o hai arenda hole c'è qualcuno qui sono tutti morti? oh scusa oh perchè non c'ho medico da assalto po 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 power lo yormungandr hanno smasciato le porte e vabbè difendiamo le porte finali e uno solo attacco a zona ovviamente non si può fare l'attacco a zona perchè chi l'ha fatto ha deciso che bisogna premere due tasti perfettamente in sincrono per farlo ma non c'è un bicchiere che gli interrompe l'esecuzione? lui non c'è sicuramente questi che stanno qua? se sta facendo ok torniamo torniamo ho cammo degli allianti palesemente ubriachi ok eh 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 fate quella rieto è un disastro per favore arrivando amici miei è arrivato ho migliorato sto indoghi E grazie per avermi interrotto il colpo Per aver dato la vendetta Oh, su, maledetto Eh, il mio olio Ah Ho preso uno dei nostri E Perché non ci sta aiutando Quello colpi oller Che non sa nemmeno il colpo Oh, ma Oh, ma Come Ok, grazie Era ora Potevi anche lasciarlo a me Sarebbe stato sicuramente utile Chi c'è qui? Che non è un'altra storia Quella devi fare con quel bastoncino Devi cercare di manarmi con un bastone Oh Adesso prendo pure il potenzimento No, che non c'è chi se l'ha rubato Ma come li ho fatto uccidere quello che mi ha oltre No Vediamocelo Adesso dopo compresso i miei anni Anche più veloce Mi sa di sì Non so dove sono loro Non riesco a capire Per il nero non vedo molto Ma dove sono? No, dove è tutta sta gente No Ma è un botto o è una persona Oh no, stavo capendo se Non capivo se fosse un botto Oppure Ehm, lito kiri Ok, we spin runner Che altro c'è? C'è l'unico insta-kiri Morti subito Sì, infatti Ahah Dove sta ricaricando la vita? Ah, il perk è quello che gli ricarica la vita Quando è Quando è in stance del balwardo lì Ma dov'è il calderone? C'è sta roba Com'è fatta sta mappa? Che caspita Non ci sto capendo niente Dov'è la gente? Perché è di sotto? Adesso scenderò Ma di che cosa? Dove sono tutti? Da giù in fondo Alla buon'ora Ho capito adesso Dalla parte sbagliata Vendolo il baffa l'attacco Sono qui Ops Uscigli Ah, no Ah, sì No, che tasti Ha preso il comando vocale Ha preso il tuo comando vocale Cioè, tu gli hai detto qualcosa Che ha fatto avertire Cancella Fa capire quello che ha capito Dove fa prendere il mio comando vocale Che non è il mio All'infoce Prende qualsiasi cosa È assurdo Cioè, scusami La riete sta Colpendo le porte Nonostante sia lontano Eh Grazie per l'aiuto Compagni di squadra Siete molto utili Vendetta 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 Poco ma Va bene Vale Mi holder Mi holder Mi holder Mi holder Mi holder Mi holder No, niente No, niente Gli freghi Ui Auciana, attacco leggero Ah Ah J baited Ah Ah Che ne arriva un altro Oh 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 Di morti però Oh Oddio un altro Oddio un altro Oddio scappa 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 Uhhh Ah 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 C'ho provato C'ho provato C'ha stata epico Però Sti compagni di squadra Sono tipo Guarda, ne arrivato uno adesso Non lo so Ma la riete è distrutto Il mio lavoro è stato Giurto Guardate, adesso i miei minion distruggeranno la riete Vittoria! Vittoria! Siamo già al di fuori posani, ah! Avevamo sempre delle bellissime bote da Vittoria. Dopo ero sempre morti. Win! Primi! 24 battimenti brutali, pulminati. Guarda la roba! Mille livelli. Un paio di bracciali, l'ornamento per l'itokiri, l'aspetto per il kensei, il simbolo per il musha musha, una lama, un'altra elsa, un'altra lama, un'altra lama, un simbolo e basta fondamentalmente. Quindi è tutta a buonezza, molto bene. Tutta a buonezza. Ma come? Ok. No, ti prego non dirmi che qui c'era un medico da assalto. Uccisore impeccabile. Ah, avremmo potuto guadagnare 200 d'acciaio e 1500 punti di esperienze. 200 d'acciaio! 200 d'acciaio, scusa. Scusa, eh. Vuoi mettere? 200 d'acciaio, mica cazzi. Neanche i 400 per tipo una cassa, no? Questa ce l'abbiamo già, quindi la cestiniamo. Questa ce l'abbiamo già, quindi la cestiniamo. Ce n'era un'altra. 2 l'ameramingo, cestiniamo. Sono 3 l'ameramingo, no, questa è l'amalorenzo. E proviamo un'altra. Credo che gli smacciamo 5 uccisioni. Un'altra così? Va bene. Lo lo chiedo. Si, si, perché no? Matura da scegla. Io ero sbloccato. Con quale volume, tra l'altro? Se lo dice risboccia. Ma mia. Abbiamo sbloccato i cosi del Kensei, i simboli per il Kensei, i colori per il Kensei, l'aspetto per il Kensei e l'ornamento per le tocchie. In un frattempo hai crashato tutto. No, hai crashato solo cose. Oh, guarda bello che è, però, questo è fatto vedere, ce l'ho metto. Ah, extreme thick work. Guardala. Ti ho detto che è una figlia, però, è super, è gigante. È esagerata. Possiamo sbustare. Sbusta, sbusta. Allora, vediamo se troviamo la guardia dell'Eylander. O ti senti più in vena di sbustare la guardia della Pacificatrice? Sbustare qualcosa per qualcuno che ha da sbustare più cose. Ok. Sbustia. Più probabilità di trovare qualcosa. Bam! One, two, three. Niente, niente, niente. Molto bene. Lo schizzo è proprio il peggio del peggio che uno poteva sbustare. Niente. Ripacciaio. Perché ci ricordiamo che il drop rate in questo gioco è una cosa fondamentale. un drop rate è tipo quello di Warframe. Eh, cento volte lo stesso pezzo? No, veramente se uno vuoi vedere le statistiche di alcune cose è una roba follia pura. C'è veramente gente che ha fatto tipo cento volte la stessa roba. Eh, ma io te l'ho detto, te l'ho sempre detto. Tutte e tre le volte che ho farmato il Rhino dal Jackal su Warframe. Ma quella è in meno, no no, c'è roba di... Farmare i Warframe quelli tipo standard da parte qualcuno è una passeggiata adesso. Dici? Sì. Sì. A parte di te ho Equinox, Mesa e... Chi altri? Equinox perché sarà questa? Vabbè cosa? Cora. Eh... Arrow. Eh... 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 Tranquillo. Guer 1 Dante. Lesbian Joker e Regal Gladton. Eh... Andiamo bene. Eh... 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 Se aggiornasse pure il... La dotazione che ho scelto io. Che maschera... Il cignalone è appiccicato su. Guarda quanto siamo bronzi. Un conquistatore tipo di base. Lo sta provando tipo adesso. No, è livello 18. Però il valore dell'equipaggiamento è zinno. Significa che ha tutto predefinito. Il barburione. No, questo era. Solti, questo gioco è il centurione. Dio meno. Quello normale o quello del reward? We cannot fail. Un saluto, ovviamente. Valdetti con le stence, mano. Dal volo! Incredibile! no ma fa un vero e 3 3 3 spadate i morti e vabbè questo è telefonato al colpo potevi anche evitare lasciarlo girare forza berserker ancora no è lo spamming di attacchi leggeri è sempre più forte di me no almeno questo saluto incredibili stamina stamina colpi morte lei attacco a zona e la sua morte quando aprivo della stamina no no ma che faccio ma perchè rolle stupido per dispetto oh guarda è morta rolle stupido aia no perchè i sculacciano tutti pish 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 ma ricordo di non farti schiappeggiare la onda no fa di fare le due mosse e da guida incontinence infermus incontinence 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 e va bene e va bene e va bene e va bene are you not entertain con tutto il labbro fa il calcio no 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 luna Vabbè. Pazienza. Are you not entertained part 2? Spin Turione! Spin Turione Roma Invicta! Spin to win! E questa l'ho presa. E aia no questa... Ma perchè ci metti così? Dove vado a voi? Non avete visto niente eh? Questo non vale. No, non vale, chiaramente. Olorozzi è già esploso, tra l'altro. Ma smettete di farvi le emote e combattete, porco giuro. Comunicando. Aspettano che ognuno di loro sbagli qualcosa. Non ricordo come si fa quella mossa, lo sai. Bonk, bonk, no. Mi ha affligo. Cangella. Fox, qual è che affliga? Pip pip pipi. Travigo! E' Serker, della scuola. Della scuola cromatica. 3 a 1 abbiamo vinto ballettino abbiamo bisogno di sciupare la vittoria con i peggie e come nostro solito abbiamo vinto quando si è spappolato a terra si muove tutto dalla vita noi facciamo il trampolino per gli altri prepariamo la strada a voi l'onore incontinence 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 significa intenibile si però la suonanza con incontinente incontinence incontinence poteva non so ma curarle di più le frasi infermus incontinence infermus incredibilis no scusa incontinence incredibilis infermus e poi c'è iniziamo e poi c'è iniziamo ci sta malissimo questa roba purtroppo non abbiamo droppato l'elsa dell'evento scorso quella con no in realtà non ci sta anche quella bianca ma guarda che la setta dello scorpione è un sacco bello se lo fosse sulla dotazione 3 eccolo va c'è sta lama sembra lunga in chilometro magari il bonus di range funzionasse ah sei pronto ah che messa ah no dove l'ho messa no allora si dà il caso che io abbia sbloccato è un sacco bello grido ah e cos'è sta l'arpione è un arpione non è una spada e quella di cos'è? una di insetto di insetto si 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 che parola non ci abbiamo uno scudo eh rasa e che? rasa lagui ah rasa al cul ah va che stile cos'è la posta super minimal io giocherei questo facciamo un dominio ho capito devo spendere 100 euro di acciaio per sbustare tutto quanti? no per avere qui 300 acciaio bonus che però in realtà non sono bonus perché sono già complessi oh signor pensa quando saremo dorati tutti dorati certo così vedi poi in realtà cambia poco però o black iron così argento argento del cavaliere dello specchio di dare i sostenitori è vero è vero è la versione più mascolina è vero ci manca la spada che spara i fulmini e però certo di quel boss è veramente figo però l'aspetto non è proprio potevano causarlo di più ma martì che è successo alla mia sessione 5x si è unito 6x si è unito alla sessione che giochiamo? un dominio? no il personale ah il centurio centurio non si possono nemmeno fare i pezzi un po' di un metallo e un po' di un altro vero? no o base o il materiale che scegli credo poi ce n'ho uno solo quindi non lo so sarebbe tantissimo fare di oro ma metallo nero e oro o rame cioè ma ma brotos non si fa ma ovviamente la personalizzazione è quella tipo di un gioco di 20 anni fa e quindi non potremo mai farlo stiamo col bugio invece che con la vita ci abbiamo contro ben un bulin eh o no c'è altro che cingioni un datore aspetta che adesso distruggo il volume della televisione anche anche il brotter per e vanno tipo pagare tipo qualche cantante death metal per fargli fare tipo sarebbe stato qualcuno che fa viking tipo il cantante di Yamuna Mart che ne so oddio musha musha quel musha musha sembra un super sentai noxius oh guardalo tutto c'è no è uno streamer tra l'altro ah si è OPG tv ha tv in fondo quindi è uno streamer di twitchy ma ti dirò è un altro hello streamer sembra un super sentai vestito in quel modo vai mette voluto ha le dati voline chi ha dei lame dell'evento quanto di quello con gli smiley noxius no noxius gioca al coso è gioca al raider ah ok è raider noxius oh una partita già iniziata e noi siamo sugli attaccanti che stanno perdendo beh e sto arrivando una ahia 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 ci sta dominando una bullying me lo so minion proteggeteci ma signora ramusha la mia uccisione e sfogherò con i minion 11 minion uccisi signora ramusha può smettere di menare me niente una volta e lui stava aspettando ma che sta succedendo ma perché i miei colpiscono me oh va bene mi tengo soddisfatto non siete soddisfatti voi peccato sciò borsa via gingioni hai catturato la zona A bene e non abbiamo ancora sbloccato il primo perk adesso si adesso possiamo contare i minion donna persa ah stanno tutti qua sei pronto all'attacco del centurione nero che però nero non è ma è minion di merda vi spostate minion che è il guattini preso oh io che c'è spoglio beh ah hai perso la zona C hai perso la zona C e se la c'è e vabbè se sta ramusha smettesse di colpire a me però ok parati il inion hai perso la zona A mordo è lì io non so come ho fatto a finire la vita tra l'altro ma vabbè Sono stati i Minion Una seconda Dalla pensa Non lo so, abbiamo fatto un gran casino ma stiamo perdendo uguale Qualcuno me la spieghi sta cosa perché E hanno tutti i punti Ma ce l'avevamo noi fino a un secondo fa Hai catturato la zona A Hai catturato la zona C 3 contro 2, ovviamente Ah, profondi Cazzo, Gesù Ah, un'altra che porta in giro Ah, una volina La gente che Fa mai i race Le manda bestia Vedi che sto combattendo contro 100 persone Almeno sta zitto Mi 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 Come faccio a restarti No, quello ci sta andando qualcun altro Hai perso la zona A Strano Hai catturato la zona C Eh Catturato la zona C Serve aiuto all'albero gigante Io so dalla parte opposta, mi spiace Sono costretto a catturare questa zona Sono costretto a catturare questa zona Per il nome di Roma Hai catturato la zona A Adesso i nostri pugni fanno male No, devo andare da una mano Se non muillino tutti Sicuramente siamo in mezzo ai Minion loro Eh Continuo a fare esecuzioni a manetta Perché almeno ci mettono di più per rispondare, capito? Per quello mica per altro Ma basta, staramusha che meno a me A posto dei nemici Ho sentito tra l'altro Gretar che strella Stavo di poterlo buttare di sotto E fi 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 Che pazienza Questo chi è? Ah Ci rincontriamo Com'è possibile? Com'è possibile? E alla punta del Glerio Dove è andata più Almeno uno abbiamo ammazzato Odio queste esecuzioni lunghe così Hai catturato la zona C La squadra nemica è rotta Odio queste esecuzioni lunghe così Ehm Presta sto tipo, su L'innemico sta caricando Anche io Strano Non c'è solo C'è solo lo Yormungar Non lo mettono mai che quando conquisti un punto ci spawnano dei Minion sopra No E' una modalità che così non va sempre La modalità del contraattacco del Preore Nero per esempio era figa perché tutti i Minion andavano su tutti i punti Allora La squadra è in rotta La squadra è in rotta La tua squadra sta caricando Allora La squadra è in rotta Prano Eh sì 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 è in rotta C'è un po' insensato qua in mezzo 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 E lo sapevo che arrivava sta stronza Guarda giù Ma va Ma che caspita ma quanti Ma che caspita ma quanti Molin de merda Scusate ma Un po' bo Non ha fatto altro Non ha fatto altro Che spammare la mossa che ti acchiappa e ti porta via Io dieci volte ci ho combattuto Dieci volte ha fatto la stessa Uno direbbe certo sei stupido tu a farti prendere tutte le volte Quelle vedi Però No Olè Grande muscia muscia La tua squadra è in rotta Adesso vado in giro con Ryder Ma è possibile scusa eh Ah giusto perché i nostri Minions non contano niente in confronto ai loro Ah ti le ami Sì Una E' da ... Sì Sì E' da infredibili grande lo ha l'ho cambiato io il bugio ha fatto effetto oh ma ammazzano i minion lo sapevo io ma come ha dato una kill a lui come è possibile guardiamo adesso attacco dall'alto applauso ha finito la stamina attacco dall'alto no perché ha attaccato ha fatto il numero dannati siano i voleni e gli sviluppatori che ce li son vendati insieme a lo Yormungand casualmente lo Yormungand è fin vicino alla ramoscia chi era? ah giusto l'altro streamer era il Raiar è uno dei più utili la ramoscia era sempre in mezzo dio mio ragazzi ho preso più schiaffi della ramoscia che da quell'altri allora io ho bisogno di 5 minuti di pausa poi torniamo e riproviamo a come si chiama? a fare l'assalto vi lasciamo qui in compagnia della nostra waifu andiamo a farci un sorso di estus se torniamo oh possiamo sbustare attenzione 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 dove vado? bisogna sbustare e sbusteremo per il centurione a sto punto ecco tutta monnetta nooo dai ma come si fa? surprise mechanics le loot boxes si infatti surprise mechanics va bene 5 minuti di pausa e torniamo se vedete un pulino fatelo fuori grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Abbiamo bloccato. Grazie a tutti. Sono tanti. No? Non sono veramente... No? No? Sì. No? Ok, stiamo per entrare in partita. Proprio mentre stavo... Huracan... No? Non lo so, non lo so... Caricamento mappa... tra l'altro... guarda... Un po' tentato di colpire Infermus! Ok Qualcun altro? No, tutti morti Molto bene, la rete è fermo Ma io non lo vedo mai Eccolo! L'altro ti ammazza pure quando è un uomo Eh, fa il laura rosso Abbiamo ammazzato i due La potenza di Roma che conquista i barbari Mi piace sta attacca! Sì, da morire Ti sa che cosa fa con l'attacco? Ah, arrivano! Arrivano per noi! Oh, non puoi passare! Un shot! Not bad! Oh, non puoi passare! Ah, non puoi passare! Ah, che dico io adattacchi! Non puoi passare! Non puoi passare! Stanno uccidetto! Ricordati che hai meno vita, eh! Guarda quanto mi basta! Ecco, guarda quanto mi basta! Oh mio Dio, qualcuno mi fermi! Oh, caspita, in vendetta non è morto Io continuo a saltare, a fulminare dove metterti di città due volte No, dico io adattacchi, ma all'inglese da contano Sì, guarda fino a me! Sì, guarda! I nostri sì! Ah no, anche i quei si sono dito! Guarda, guarda! Tutti spada, tutti spada Vediamo se funziona AH! Funziona! Oddio! Hai ammalito la G.O.A. Gli ali di Roma! Eh, aspetta Ho un martello, ma Roma! Roma invicta! Vabbè, voi andate, vede qui ci pare sia Ah! Nooo, l'attacco pesante Sbagliato, speriamo che gli glielo tolgano prima BICCHIERI QUALCUNO, LO FERMI Abbiamo un wave col martello E' la fine Eh... Sono già a 9 Avvertirei 5 pai di spada Che il martello ce l'ha Qualcun altro Spero che glielo tolgano Eh, che finisca il tempo Credo sia scaduto, tra l'altro Tutti l'ariete! Eh, tocca i minion Se non si aggancia, io non posso fargli nulla Ma che finisca Patta Vada Mica Vienico Uff Lancia i pugnalini, lancia!! E' quello che ho fatto Stanno uccidendo Non farti prendere Nessuno RUNNING IN THE 90's Non ci segue RUNNING IN THE 90's Ma non ha mattato uno dei miei Ho deciso uno dei miei Guarda Vabbè però mi chiede tutto da kill Assolutamente Almeno abbiamo anche più vita adesso E' strano Il calderao meravigliao Forza 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 E' strano di tutti e il ministro Quando il calderone è diventato un ministro Non èinto Vabbè 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 Va arrivando mio amico Charlie Brown Un calcio poi un pugno poi qualcosa non lo so Beh Che cazzo stai su? Capitano che vuole Resta giù E dove vai? Via! Sbagliato carico Vado qua Sono gli arcieri del nemico Sì sì Ma il calderone è carico Abbiamo preso una botta alla porta Penso di sì che l'avete gravemente danneggiato Ops Ops, are you not entertained? Fai la sto Overlord Volutatis La situazione della canzone di Beth Contra l'altra C'è a lui C'è il rider di qua Perché? Davide Davide Si No, 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 no Ci ridanno un pochino di vita No, 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 no Che ci ridanno un pochino di vita No, 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 no Ma non è così può Il problema è che un'altra botta da riete E... Ma chi se ne c'è la riete Devo solo trovare la vita E' di qua Non è morto? No, no, è andato in stand B Ah, Capriola Adesso conquistiamo la zona C'è una C'è una C'è una C'è una Ah, c'è una Vabbè Ok, siamo pronti Sì, all'attacco Vai in qui Perché l'avevo fintato? Oh, caspita Ve l'ho detto Vabbè, l'Web l'abbiamo ucciso Ahimè dove erano? Erano tutti qui Oh, sta spawnando il drago Eh Eccolo va Eeeh Eccolo Vero Oh, il tipo col martello Con un altro martello Con un altro martello Con un altro martello È bello che gli ne facesse Doppio martello Eccolo Dietro a lui Segui le urla Segui le urla Segui le urla È andata finita Morto Morto Martello E vaffanculo E vaffanculo a te E alle tue mosse del cazzo Comeee? Ma sta stamina me la ridai oppure no? E... Oh Che è successo? Quanta gente è arrivata ad uccidermi? Qualcuno mi resta per favore? Sono qui Sì No, credo che ci abbia ammazzato con il martello E lui se l'è fatto fregare subito Grazie Ah, il martello ne ero degli altri? Sì Riverò il mio disappunto al riguardo Però la zona della niente Sì Sarà uno di loro Sì Ah, ci siamo fatti vedere Sì Per combo Io che lo butto Tieni tutti i morti qua Non c'è questo qui Come hai sentito dove comparci tipo i mini o tutti i suoi? Eh, perché è l'inizio della... Eh, fra virgolette È il nuovo inizio della barba, no? Eh, vabbè, che molti le rività ti spawnano Cioè, infetti i bicchieri Io Piccoli È il nuovo spawn Noi finciamo sempre la morte È il nuovo spawn degli attaccanti Capito? Si sposta pure quello Sennò dovrebbero farsi tutta la mappa a piedi E siamo primi ancora Grandi Cinque stelline No, glielo ho dato una sola Per cambiare la turista Noi Torietta quattro sul centurione? No, tre Sono un pezzo di armatura però Guarda roba Guarda roba Guarda che sbustamenti Allora Elmo betica Se butta No, vabbè Teniamola per adesso Centurione simbolo Ok Shinobi Itokiri Lama usurata Se butta Elmo betica Va bene Corazza savia Se butta Quella? Cauda serpentis Quella è nuova Qui abbiamo Bracciali Galizia Che erano vecchi Sanni erano vecchi Corazza sanni era vecchia Corazza sanni era vecchia Corazza sanni era vecchia Possiamo sbustare Ok Allora Sasnio Da dieci La prendiamo E quella da sette La buttiamo Giap Poi Dalmazia Questa è quella 100 100 mi serve Savia Che cambia tra la Dalmazia e la savia? Anch'è la savia ha i disegnini Wow Un'altra savia Grandi differenze di peso Poi abbiamo un'altra Dalmazia Che è come questa E buttiamo via pure questa Per riempirmi l'inventario di monnezza Corazza Campania Che dovrebbe essere tra l'altro Qua la base, infatti E poi c'è la Galizia Ok, poi elmi Elmobetica, elmobetica Non cambia assolutamente niente Potevamo riparmiare Bracciali Bracciali Galizia Ce l'abbiamo già? E di sono poterosi Ce l'abbiamo quindi si tendono Vai, metti, equipaggia Il bracciali sannio ce l'abbiamo già? Sì, eccoli Quindi questi si buttano No, si equipaggiano Ci fanno ancora più imponenti Quali questi? Sì Guardalo Poi abbiamo una lama usurata L'abbiamo buttata via Abbiamo l'Elsa Ok La Guardia Calda Serpentis Con ben 5 serpenti No, 4 scusate E adesso It's time to sbustare Nel frattempo Che abbiamo trovato Il simbolo No, abbiamo trovato anche altre cose Che caspita Abbiamo sbloccato in più Un'Aquila Rampante Mi raccomando Ok Quindi abbiamo fatto un'autorità 3 Ho preso conto Va L'Elsa L'Elsa La lama Affidata E' un'altra Dai Guardia E provvederemo a buttar via Cosa? Quindi adesso abbiamo Questa cosa Non è male Non è male Potrebbe essere meglio? Sì Potevamo averci anche la lama E' sempre figa La bella dama Si La bella dama scata Facciamo un paio di due Uno con il litokir E uno con il centurione Che magari siamo fortunati E' esploso il player Come sempre Abbiamo sbloccato Un effetto 1.40 Cazzo Abbiamo sbloccato Un effetto Per il litokir Durante l'ese Io porto Fario pintagine Luna wolf Wolf 555666 Che sia un fan Del 40.000 Che ricordiamo Che i lupi I lupi della luna Erano la legione Dei figli di Horus Prima che egli Gli cambiasse nome Prima che impazzisse E si desse il caos Oh Notorietà 28 Quindi allora Devi tipo Metterti L'olbro In versione ultramarine Per vedere Se è invece È un fan No No Volint Non è un fan Volint 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 Buonasera Warvek Ehi Warvek Ben arrivato Come è andato Lo stream Con GTA Possiamo accettare Possiamo accettare Che è un fan De Warvek 40.000 Giochi No Bacca Vanboyant Guarda che cappello Mi ritrovo Mi rospi Sulle spalle Guarda ti contento Non saluta Non saluta E tra molti stranieri Probabilmente Perché pensavano Facessi Coldplay Adesso va parecchio L'RP No? Di GTA E come funziona Scusa? Esistono dei server appositi Ah ma sul multigiocatore Dici? Sì Praticamente C'è tutto Il De faglio Le mappe Lo giocatore Ma A me Comunque Io C'ho capito Eh beh C'è L'ho difeso Io Sconfigga Che Tutto Sporgo Dì Maledetto Terzo round Oh ma Oh ma Ricordi che lui Va in danza In gira Girotondo Ma non c'è Maledetto Di difendere Da un attacco Da sta merda Di T&D Ma che è stasera Oh Porca miseria ragazzi Accidenti Egulin Chi l'ha programmati Sale 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 Da per tutto Me lo porto dietro Da Assault Sanctuary Mi rimanerei a giocare La modalità Con il martello di tor Che è la più divertente Si fa arma Che è la più Che fare Il martello di tor E' la più Dove Il martello di tor Voi proprio che si spaventi Il gioco fa incantare Eh sì Proprio lì E' virato Ah ok E' virato certo Guarda faccio anche l'edge walking per andare via Abbiamo trovato un altro elmo uguale E' un aspetto per il T&D E' insito in come è il gioco Vuole la rinunci e cazzare A prescindere da quante ore uno abbia sopra Ma perché dipende da chi trovi contro E con cosa? Ho preso il centurione per farci vedere come si gioca E' un'autorità 12 Ah ma no Ah ho notato adesso che lui è in autorità 39 Semmai a dopo Walbeck Non ti assicuro che ci saremo ma a dopo semmai A dopo Adesso sta per far vedere che lui col centurione è preparato Eh allora sì Preparati alla cazzina dove tu prendi tipo Cioè non fai nemmeno L'animazione iniziale Prendi inizia e fa Esatto Oh stavolta saluti Non ti schifo Fai qualcosa Io non so come sia possibile Che sconti Un centurione quando lo giocano gli altri C'è un tracking della madonna Quando lo gioco io a zero Stavile a dire Non lo so Non capisco Eppure si era partiti bene Poi ho schivato sette volte per evitare l'attacco Niente Il tracking Manco d'arco d'arco il 2 Terribile Ah va Caspita è l'ingresso di sto posto Saluto a metà Perché non te lo vedi Ho qualcuno senza stamina Calci no Come Oh cazzo Ebbe 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 Ah Buona Tu ho mozzarellaissima La mozzarella per terra La mozzarella per terra Uff Uff Questa è il gioco La guona puntata C'è il gioco C'è il gioco Oh shit Menina Ricchia male Incredibilis Incredibilis Cazzo Poi E' più io più di dirtelo No no merda ho preso un bugio Non so come fare Perché ma che tracking di merda C'è stato attacco Ma non è possibile Dai che ancora puoi Non posso far niente Sì che puoi fare Sì invece che posso Sì ma magari No Ario notto Enter centurione Questa è stata confattuta Vittoria L'ignoranza paga Quarto round Quarto round Chiare 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 Hai Perdo di più Ah pensavo fosse andato in punto No no Cogno 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 Ho detto che è in un castato Finita Posso schivare No niente Posso schivare Dannato sia il centurione E' meglio che lo gioco Va bene, va bene, va bene C'è ancora l'ultimo round Non è ancora detto l'ultima parola E lui corre E lui corre E infirmati Che fai? Niente, lo distrago Scusa, no, scusa Cazzi Una volta tanto riesco a farla pure io Aspetta però Siamo usciti out of bounds Out of bounds No, ho preso il calzo io Cugno No, niente, ho perso Non posso far via Basta, sono andato in punta Adesso disinstallo tutto Venduto l'Xbox Sì, sì Vendo anche la cam E non ho neanche droppato l'ultimo pezzo di arma Porca miseria Stiamo accumulando sale Per livellare su Salton Century Basta, me ne vado Facciamo un paio di duelli con Lito Kiri E poi ci salutiamo perché si è fatta una certa Giusto per non deludere la nostra Ah, a proposito Ah, giusto, l'elbo Teschiuloso Maximum meginis proprio Non volendo c'è questo Sicuramente ce l'ho anche io Ma è quella di me È la prima cosa che esplode È orribile Non mi convince Gran Casterno Però Vabbè, ci sta Quindi adesso col cinturino Sblocchiamo pure le cose viola Cinturino Sblocchiamo pure le cose viola Se solo ce l'avessimo C'è di viola O, Elsa Cranium L'Elsa Warhammer 40.000 Elsa Equina Sì, è vero Della Pace Del Pretor Decano Ancora Palude Temprata Dorata Bruciata No, non posso vedere nient'altro Perché non c'è nient'altro di viola Quindi, ciao Devo caricare una clip Tra l'altro Di giustizia Che l'ho fatta l'altra volta L'altro giorno Ho avuto Un pessimo incontro Con Un Briore nero E uno Jormungandr E è finita male per loro La caricherai in giro Sì, certo Appena Appena mi decido a tagliarla La caricherai in giro Solo che dalla fretta di cliparla Perché l'ultima volta Quando abbiamo fatto Quell'uccisione volante Sono rimasto fregato Dalla fretta di cliparla Finisce un po' Di botto Cioè nel senso Qua muore l'ultimo TAP Finito il clip Eh vabbè Purtroppo è così No, è real enxity online No, ho sbagliato Microsoft Edge Ok Atomi No, non lo so Sì, su Microsoft Edge No, lo Shugoki Oh mio Dio Lo Shugoki Oh no Volevo prenderlo a zampate Il Dick Goki Zampate, zampate Zampate Guardi, guardi Oddio Apri Accendi il contatore Il contatore di abbracci Accendi il contatore D'abbracci Mi raccomando Ah, non lo bacio Ma vabbè Nel senso Tieni il conto Bisogna Ah Ug Tante volte siamo stati Abbracciati dal Dal Dick Goki Ok Brutto Brutto Primo round Oh, sei già offeso Eh, offeso anche Abbiamo già finito la stamina E voliamo E così Va bene C'ha fatto recuperare la stamina E uno E due E gong La bossa che mi lancia Tipo dall'altra parte Della stanza E per mettere all'avversario Di recuperare la stamina E' super furbissimi Ah, c'ha sottovalutato Dai Secondo round Ma fate adesso Ci fa il culo Ah, vabbè Adesso Cazzi Nel che Cazzi Randello Randello Trippata Abbraccio Randello 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 Trippata Un po' finterà qualcosa Qui Cazzi No Talmente Dei per armo Rebino Ecco Posto Ma ci butta per terra Uno Due E tre E tre A posto GG Io quanto odio Sta meccanica Della stamina Ragazzi Una cosa proponibile Terzo round Cioè Se finisci la stamina Tanto vale poggiare Il joystick per terra No Perché a me Si consuma troppo Puglia C'è meglio A posto Luce che hai Ah, la seconda Forza segreta è la cosa più veloce che abbiamo è doppia hiper armor come prima con l'hylander non fa male non saluta più, si è offeso fuggiscio con l'ottacqua zona ecco lo ritorno, fuggis, fuggis rotola da qualche parte rotola e fuggiscio via, cardellata posso anche posare il joystick io posso anche posare il joystick tanto non c'è versa di recuperare la stamina io, boh, non lo so io continuo a lasciarmi perplesso non è possibile, è vero io sono la persona più scarsa sull'universo per giocare questo gioco, se vede però, porca miseria non è possibile e dai c'è qualsiasi cosa fai una volta che hai finito la stamina sei morto a posto no guà, cioè vabbè sconfitta poi cammina ha finito la stamina cammina malissimo io, boh, non ho parole continuo a non avere parole al riguardo capisco che l'obiettivo è non finire la stamina ma, boh non lo so attività bassa sul duello ah, vabbè vediamo un po' ah che soddisfazione vedere il centurione in copertina ah va bene dopo l'ennesimo ranta su come funziona di merda la stamina in questo gioco tra le tante cose che funzionano in merda tra le tante cose che funzionano in merda sì però ma noi giochiamo come un cavolo sì che siamo dei vasochisti perché è un gioco che mi piace un sacco dopo il fatto che sia fatto male è sempre peggio è un altro discorso io adoro questo gioco quindi continuerò a giocarlo nonostante tutto il sale che sto accumulando ma se non altro il sale ci fa capire con il sale qui su Twitch con tutti certo e se non altro il sale ci fa comodo per Salton Sanctuary per livellare e per fare gli upgrade alle armi bene quindi io vi do appuntamento con il nostro centurione reputazione 3 vi do appuntamento alla settimana prossima perché sabato sera la serata salta perché purtroppo cioè no purtroppo perché non ci sono e quindi ci vediamo mercoledì prossimo e vediamo un po' con Don't Lest con Don't Lest salta non so ma è quello di prossimo che giorno è? un po' sul calendario è il 3 no è il 2 è l'ultimo giorno dell'evento Lira di Ulda quindi l'ultimo giorno in cui potremmo giocare a fare d'horror quindi forse potremmo riportare For Honor per poi dedicarci a Don't Lest e la volta di là quindi come sempre seguiteci su tutti i social Facebook Instagram Twitter su Youtube trovate le e-vold le e-vold delle puntate precedenti se volete stare aggiornati seguiteci su Telegram e il nostro canale di Telegram è ultra aggiornato ogni volta e potete prendere tipo dei bellissimi sticker a tema For Honor esatto e poi niente vi do appuntamento la settimana prossima e fino ad allora buona fortuna